Per cosa che mi ha occupato il mio figlio? E che mi dicono che mi ha messo l'assassinato. Perché cosa che mi ha fatto, no Andrea? Finché che gli apparì il corpo, finché che parla. A due anni dall'omicidio di Isabella a 90, Ophelia Arampazzo aveva parlato così ai nostri microfoni, esprimendo il dolore di una mamma di 85 anni, per la quale il mancato ritrovamento del corpo della figlia ha rappresentato un'ulteriore profonda sofferenza. Il corpo di Isabella, per la cui morte sono stati condannati a 30 anni di carcere, i fratelli Sorgato e a 16 anni e 10 mesi Manuela Cacco, potrebbe essere finito nel mar Adriatico pochi giorni dopo la morte e uno dei particolari affiorati nella motivazione del ricorso in appello dei legali dei tre condannati in primo grado. La perizia di parte, richiesta dai legali della difesa, dimostrerebbe come il corpo mai ritrovato della vittima fosse stato gettato nel Brenta, da dove in circa due giorni avrebbe raggiunto il mare, aiutato dal rafforzamento delle correnti grazie anche alle abbondanti piogge di quei giorni. Più in generale nel ricorso in appello si sostiene come l'omicidio non fosse stato pianificato, ipotesi che modificherebbe il reato a carico di Freddy e Deborah Sorgato in omicidio colposo o preterintenzionale, scagionando Manuela Cacco dall'ipotesi di concorso.